Ciao a tutti, siamo qui al centro outlet multimarca di Gruppo Carmeli a Coccaglio, una delle sedi del gruppo che potete trovare in altre città come Bergamo e Brescia. Sono in compagnia di due venditori, Angelica e Matteo, che ci racconteranno solo alcune delle mille occasioni che potete trovare qui da Gruppo Carmeli in pronta consegna e tutte con incentivi anche senza rottamazione. Perfetto Matteo, io direi di cominciare da te. Quali modelli ci farai vedere oggi? Ciao Marco, oggi ti faccio vedere Alfa Romeo Stelvio veloce, Jeep Compass Modellier 2021 nell'allestimento Limited, Fiat Tipo Station Wagon, Fiat Tipo Cross, Jeep Compass Modellier 2021 allestimento Longitude, Fiat 500X Sport e Jeep Renegade Limited. Wow Matteo, sono davvero tanti modelli, che ne dici se cominciamo da questa Alfa Romeo? Certo Marco, partiamo da questa Alfa Romeo Stelvio proposta nell'allestimento veloce con motorizzazione 2.2 da 210 CV con trazione Q4, disponibile anche in altri colori oltre a questo grigio stromboli. Questa vettura ha sensori di parcheggio anteriori e posteriori con telecamera e cerchi in lega da 20, sedili sportivi in pelle totale e riscaldabili e volante sportivo con paddle. Insomma, una vettura che coniuga sportività e comfort. E a che prezzo possiamo trovarla? Ve la proponiamo con uno sconto a listino di 24.500 euro con promo Gruppo Carmeli. E adesso Matteo immagino che ci descriverei questo bellissimo modello di Jeep Compass, giusto? Esattamente Marco, ti propongo questo Jeep Compass Model Year 2021 proposto nell'allestimento Limited con cerchi in lega da 19 diamantati e fari full LED. All'interno troviamo un design di ultima generazione con virtual cockpit e una virgolatore da 10,1 pollici. Ma è vero Matteo che questa Jeep Compass la possiamo trovare anche in diverse colorazioni e allestimenti? Certo Marco, ti confermo che da noi le puoi trovare anche nella versione Longitude sia con cambio manuale che con cambio automatico. Tutte in pronta consegna e con uno sconto a listino di 9.200 euro con promo Gruppo Carmeli. Rimanendo in tema di macchine familiari, ti va di raccontarci qualcosa di questa bellissima Fiat Tipo? Volentieri Marco, ti presento questa Fiat Tipo versione Life Station Wagon in una bellissima colorazione blu oceano con cerchi in lega diamantati e fari full LED. E non per ultimo un ampio bagagliaio tra i più capienti della categoria. E Matteo dimmi una cosa, mi è giunta voce che le auto qui da Gruppo Carmeli si possono pagare dal 2022, è vero? Esatto Marco, su tutto il nostro stock è possibile cominciare a pagare la vettura dal 2022. Nel dettaglio questa Fiat Tipo la proponiamo a 19.480 euro con promo Gruppo Carmeli. Da una Fiat Tipo ad un'altra, l'unica differenza qua è il recentissimo allestimento, l'allestimento City Cross. Esattamente, questo è il nuovo allestimento City Cross proposto da Fiat su Tipo. Una linea da crossover con faro full LED e cerchi in lega bruniti. Uniti ad un interno in tessuto con trama specifica. La macchina che abbiamo qui è solo a benzina, l'avete solo di questo tipo? No, la puoi trovare anche diesel sempre in pronta consegna. Quella che vedete la proponiamo da un listino da 20.250 euro ad un prezzo di 16.480 euro con promo Gruppo Carmeli. L'abbiamo citata prima e direi che ora è arrivato il suo momento, ovvero quello di Jeep Compass Modeler 2021 con allestimento Longitude. Sì, un allestimento concreto che non rinuncia al cerchio in lega da 17, sensori di parcheggio posteriori e telecamera posteriore. All'interno troviamo lo Uconnect Touchscreen e un rinnovato volante in pelle multifunzione. Quindi oltre ad avere un allestimento concreto mi stai dicendo che strizza l'occhio al prezzo? Assolutamente sì. Pensa che da un listino di 31.400 euro può essere vostra a 23.480 euro con promo Gruppo Carmeli. Con questa stratosferica inquadratura abbiamo deciso di fare una bellissima sorpresa al nostro Matteo. Sappiamo che è compito di Angelica raccontarci le 500, però abbiamo pensato che questa bellissima 500X Sport ce la possa raccontare tu. Sorpresa molto gradita, dato che il design sportivo è la mia passione. La 500X che abbiamo qui con noi è la versione Sport nel colore grigio moda, opaco con tetto apribile e faro full LED. Internamente troviamo sedili in pelle e tessuto con volante sportivo rifinito con alcantara. Però Matteo fammi indovinare perché me la sento molto molto buona. Anche questa scommetto che sia in pronto consegna e disponibile in diverse colorazioni, giusto? Corretto, ma 500X è disponibile anche in altre motorizzazioni. Quella che abbiamo appena presentato può essere vostra con uno sconto listino di 8.000 euro con promo Gruppo Carmeli anche senza rottamazione. Dallo stile sportivo della nostra 500X Sport direi di passare allo stile off-road della nostra Jeep Renegade che ovviamente ci racconterà Matteo. La Jeep Renegade qui proposta è la versione diesel allestimento limited, ma non vi stancherò mai di ricordarvelo che è disponibile anche in altre motorizzazioni e in altri colori, tutte con incentivi anche senza rottamazione. Al di là di questo troverete su tutte il faro full LED ed il navigatore da 8.4 pollici. Wow, una dotazione davvero completa Matteo! Questa era la sua ultima auto, ma non l'ultima per voi amici che ci state seguendo, perché adesso andremo da Angelica che ha qualcosa in servo per noi. Come vi ho detto prima amici, adesso sono in compagnia di Angelica e insieme a lei andremo a conoscere alcune delle mille occasioni che potete trovare solo qui da Gruppo Carmeli inerenti al mondo Fiat, vero Angelica? Assolutamente sì, adesso vi illustrerò alcune chicche della casa automobilistica Fiat, partendo da una Fiat 500 Lounge, passando a una Dolce Vita, una Fiat 500 Connect, abbiamo poi una Fiat 500X Connect e una 500X Cross. Infine vi presenterò una Fiat Tipo City Life. Davvero un'ampia scelta Angelica, ma visto che siamo qua ti andrebbe di cominciare a raccontarci un po' questa bellissima Fiat 500 Lounge? Certamente Marco, oggi vi mostrerò la Fiat 500 alla piccola più amata d'Italia. Partiremo da una lounge caratterizzata dai suoi cerchi in lega da 15, il tetto panoramico in vetro, il pack comfort composto da sedile guida regolabile in altezza, sovratappeti, sedile posteriore sdoppiato 50-50 e tasca retroschenale. Inoltre troviamo il sistema multimediale rappresentato dal display a 7 pollici touchscreen con Android Auto ed Apple CarPlay. Però ti blocco un attimo Angelica, è vero che questa macchina è disponibile in altre motorizzazioni e colorazioni? Assolutamente sì Marco, te lo confermo, la possiamo trovare in varie colorazioni e motorizzazioni differenti. Inoltre solo con Promogruppo Carmeli la possiamo trovare a 12 in abbottanza anziché 20.000 euro. E dallo stile storico e inconfondibile della Fiat 500 Lounge adesso siamo passati allo stile innovativo di Fiat 500 Dolce Vita, giusto? Esattamente Marco, allora troviamo una Fiat 500 Dolce Vita rinnovata nel suo stile con delle cromature che la rendono molto più raffinata rispetto alle precedenti edizioni. Abbiamo una vettura con tetto panoramico, cruise control, cerchi lega da 16 diamantati e non poteva mancare il suo schermo touchscreen da 7 pollici. E anche questa posso averla con un prezzo vantaggioso grazie alla Promogruppo Carmeli? Esattamente, con 5.350 euro di sconto rispetto al prezzo di listino. Siamo passati da uno stile inconfondibile storico ad uno stile innovativo ed elegante e sempre da quello innovativo ed elegante arriviamo a quello sportivo della Fiat 500 Connect. Ti va di raccontarcela? Certo! Comprende sensori di parcheggio posteriori, sensore pioggia e crepuscolare, cruise control, fendinebbia al volante multifunzione e il suo monitor immancabile da 7 pollici con Apple Kp, Android Auto per poter gestire al meglio messaggi e chiamate. Ho sentito che sono presenti i sensori di parcheggio posteriori e penso subito ad un neopatentato che magari la sboccia. Ma la possono guidare loro? Sì, in tutti i nostri allestimenti la Fiat 500 può essere guidata dai neopatentati. Ma fammi indovinare una cosa, anche questa macchina posso cominciare a pagarla dal 2022? Come tutte le nostre occasioni, puoi iniziare a pagarla dal 2022. Se invece vogliamo unire l'inconfondibile stile elegante della 500 alla comodità e alle dimensioni di una familiare, troviamo la 500 X Connect. Esatto, qui con noi troviamo una 500 X Connect, nero brillante, con i suoi vetri oscurati, il Magic Eye definito a sensori di parcheggio anteriori e posteriori, con retrocamera, climatizzatore automatico, ha il magnifico prezzo di 20.080 rispetto al prezzo di destino di 28.9. Lo stile è stato quello che finora ha unito tutte le nostre vetture e dallo stile molto più elegante della 500 X Connect passiamo ad uno stile molto più off-road della nostra 500 X Cross. Ti va di raccontarcela? Sì, il SUV giusto per ogni avventura, composto dai suoi sensori di parcheggio anteriori e posteriori, arricchiti con una retrocamera. Inoltre abbiamo l'inseparabile monitor da 7 pollici con Apple Carpinoid Auto e fari full LED. Inoltre anche questa vettura è in pronta consegna e si possono risparmiare 7.000 euro da listino. Infatti la troviamo a 19.980 anziché 27.000 euro. Prima con Matteo abbiamo visto la Fiat Tipo Station Wagon e la Fiat Tipo Cross, ma questa mi sembra leggermente diversa. Sbaglio Angelica? No Marco, non sbagli, questa è una Fiat Tipo City Life 1000 con i suoi cerchi in lega da 17 diamantati, il touchscreen con Android Auto e Apple CarPlay, quindi diciamo un allestimento concreto e che va dal sodo. Anche questa vettura fa parte della Promo Gruppo Carmeli. Infatti il suo prezzo da 21.370 di listino andrà a 14.980. Vi ricordo che potete trovare tutte le nostre occasioni a chilometro zero, auto aziendali usate, tutte garantite, in diversi marchi, colorazioni, modelli, allestimenti e motorizzazioni sul nostro sito www.gruppocarmeli.com oppure venite di persona nelle nostre sedi San Zeno Naviglio, Brescia, Curno, Bergamo oppure dove mi trovo ora a Coccaglio. Dimenticavo, ho una chicca per voi. Per chi acquisterà c'è la possibilità di avere la manutenzione per il tuo veicolo scontata e solo per citarne alcune abbiamo uno sconto di 100 euro sul kit invernale, il 20% sul tagliando auto, che da noi è fatto secondo i criteri del costruttore, o ancora il 25% sulla ricarica del clima. Per ulteriori informazioni ovviamente non esitate a contattarci allo 030 77 24 011. Grazie per l'attenzione e ci vediamo nel prossimo video. Grazie a tutti.